Noi vogliamo diffondere la conoscenza dei dati scientifici, quindi la traduzione del rapporto delle Nazioni Unite che facciamo come Fondazioni Verde ogni anno, ormai da anni, è per dire che questi rapporti devono essere poi utilizzati. La tutela delle risorse idriche significa innanzitutto le falde sotterranee che vanno tutelate dagli inquinamenti, dai danni e poi il grande tema dell'emergenza siccità che va affrontato sia con un uso razionale dell'acqua, pensiamo anche ad agricoltura con irrigazione a doccia, con l'uso di una serie di piante che hanno meno bisogno di acqua per esempio, dall'altro lato la creazione dei famosi laghetti per raccogliere l'acqua perché non abbiamo un regime ormai delle piogge con la crisi climatica che ha nubifraggi, alluvioni, rischi enormi di tanta acqua in poco tempo che quindi non permette alla falda di assorbirla, dall'altro lato se questa la conserviamo possiamo irrigare e possiamo avere l'acqua quando ci serve.